di la verità quante volte avresti voluto mettere in rete due o più pc tra loro in modo da farli comunicare liberamente ma anche nella massima sicurezza ebbene questa è una procedura piuttosto complicata che tuttavia non sempre riesce non sempre va a buon fine ma questo fino ad oggi perché quello che sto per presentarti è un software davvero interessantissimo che ci consente di mettere in rete tra loro più computer indipendentemente dalla loro posizione geografica e quindi non devono trovarsi tutti quanti nello stesso edificio per poter funzionare unico requisito devono essere connessi ad internet e per il resto il programmino è anche naturalmente gratuito andiamo a vederlo insieme ti senti pronto iniziamo non so se ti è mai capitato di provare a mettere in rete tra loro due computer solitamente quando lo fa qualcuno non particolarmente esperto i due computer sembrano ostinatissimi e refrattari a qualsiasi tentativo di connessione tra loro ma dice a me ma dice a me ma dice a me e con chi stai parlando dice a me non ci sono che io qui ebbene sì il più delle volte la prima volta che ci si prova la sensazione è esattamente quella lì un vuoto pneumatico assordante con ogni computer che si guarda intorno come se fosse l'unico ad essere in quella stanza e si rifiuta categoricamente di vedere l'altro per nostra fortuna tuttavia il software che stiamo per scaricare è in grado di semplificare alla massima potenza tutte quante queste operazioni ma non solo crea anche una connessione crittografata e sicura esattamente come quella che usano le vpn in modo tale che possiamo comunicare con gli altri computer senza il pericolo che qualcuno nel mezzo vada ad intercettare i nostri dati ma allora perché stiamo ancora perdendo tempo andiamo a scaricarlo la prima cosa da fare come sempre è andare ad aprire il nostro browser di fiducia una volta aperto nel motore di ricerca andremo a digitare gentiluomo digitale effettueremo la nostra ricerca e andremo ad aprire il primo risultato cioè come sempre quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it una volta che si sarà aperto il nostro sito ci porteremo nella sezione downloads quella qui in alto ed eccoci qui ora che si è aperta la pagina scendiamo insieme un pochino più in basso fino ad individuare questo download quello che si chiama hamachi per scaricarlo clicchiamo sul pulsante azzurro file download e attendiamo solo alcuni secondi che il file venga scaricato sul nostro computer una volta che sarà stato scaricato faremo doppio clic sulla cartella compressa per andare ad aprirla e fatto questo potremo chiudere la finestra del browser retrostante naturalmente dovrai fare questa operazione su tutti quanti i computer che vorrai fare partecipare alla tua rete andiamo quindi ad estrarre trascinandolo fuori sul nostro desktop l'unico file quello che appunto si chiama hamachi contenuto nella cartella compressa e dopo averlo trasportato sul desktop potremo chiudere la cartella stessa a questo punto andiamo a fare doppio clic sul nostro file hamachi per procedere con l'installazione scegliamo la lingua che preferiamo e clicchiamo sul pulsante next spuntiamo la cartella che dice che abbiamo letto ed accettato tutti quanti i termini del contratto di licenza e clicchiamo su avanti potremo lasciare tutto quanto esattamente come si trova in questa finestra e cliccare nuovamente su avanti ed infine cliccare sul pulsante installa senza andare a toccare questo pulsante try for free che ti va ad installare delle altre cose a mio avviso inutili sul pc clicchiamo quindi su installa confermiamo di voler accettare che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo cliccando sul pulsante sì e attendiamo pochissimi secondi il termine dell'installazione del nostro programma ecco fatto clicchiamo su fine e lasciamo spuntata la voce che dice avvia hamachi come vedrai si avvierà automaticamente il programma hamachi naturalmente la prima cosa da fare sarà cliccare su questo pulsante per andare online e soprattutto per andare a configurare la nostra prima rete dopo esserci registrati clicchiamo quindi sul pulsante e vediamo che ci viene richiesto l'accesso nel caso in cui abbiamo già una nostra registrazione oppure di cliccare qui su questa scritta registrati come farò io per andare a registrare il programma per la prima volta tutto ciò che dovremo fare sarà inserire un nostro indirizzo di posta elettronica valido e successivamente scegliere una password sufficientemente complessa composta di lettere numeri caratteri speciali e superiore almeno ad otto caratteri andiamo quindi a farlo insieme e scegliamo una password complessa fatto questo potremo cliccare sul pulsante crea account bene quello che dovremo fare adesso è creare la nostra prima rete per farlo naturalmente cliccheremo sul pulsante crea nuova rete e nella finestra che si aprirà dovremo dare un nome univoco alla rete che andremo a creare successivamente dovremo scegliere una password sufficientemente sicura per andare a proteggere e crittografare questa rete nulla vieta di utilizzare la stessa password utilizzata per creare l'account ma il mio suggerimento è di digitarne una possibilmente completamente diversa dopo averle digitate potremo cliccare sul pulsante crea ed ecco comparire la nostra nuova rete a questo punto andiamo ad arricchire questa rete con una cartella condivisa per farlo vado su esplora file mi porto sul mio disco c creo una nuova cartella e la chiamo rete di prova ecco fatto fatto questo vado a cliccare con il pulsante destro scelgo la voce proprietà e nella scheda condivisione vado a condividere questa cartella in rete attribuendogli i relativi privilegi in questo caso vado a scrivere everyone per consentire a chiunque sia connesso a questa rete l'accesso a questa cartella una volta aggiunto l'utente everyone cliccando qui potrò dare a tutti quanti i permessi di lettura e scrittura sulla rete e confermo cliccando sul pulsante condividi quello che ti suggerisco di fare adesso è di spostare la rete a cui è attualmente connesso il computer nella categoria reti private ecco fatto clicchiamo sul pulsante operazione completata ed avremo creato la nostra prima cartella di rete quello che dobbiamo fare ora è chiudere tutto quanto su questo computer potremo buttare giù amaci o chiuderlo ma rimarrà comunque nel system tray e ci sposteremo sul primo dei client che vogliamo aggiungere a questa rete ed eccoci qui sul primo computer che vogliamo aggiungere alla rete su cui andremo a fare praticamente specularmente le stesse operazioni con l'unica differenza che avremo già il nostro account creato e quindi dovremo effettuare l'accesso e soprattutto che la rete sarà stata già creata e quindi anche in questo caso dovremo effettuare l'accesso te lo faccio vedere molto rapidamente eccoci qui a questo punto anziché andare a registrarci nuovamente visto che abbiamo già un account ci basterà effettuare l'accesso con le credenziali che abbiamo scelto precedentemente perfetto fatto questo cliccheremo questa volta invece sulla voce partecipa a rete esistente e andremo a digitare il nome e la password della rete che abbiamo creato in precedenza clicchiamo quindi sul pulsante partecipa ho preferito affiancare i due computer in modo tale da farti capire meglio la situazione questo che vedi sulla sinistra e che si chiama clone a è il computer che abbiamo preparato per primo diciamo quello che fa da server e sul cui disco siamo andati a creare la nostra cartella condivisa cioè questa qui che si chiama rete di prova quest'altro computer è quello che abbiamo appena invece finito di preparare ovvero diremo il client che avrebbe in linea teorica la possibilità di andare ad accedere al server semplicemente cliccando con il pulsante destro e scegliendo la voce sfoglia tuttavia se lo facciamo molto probabilmente anche sulla tua macchina riceveremo un errore per cui sarà necessario andare a compiere su entrambi i computer un'operazione lei è cieco sì sono cieco allora me lo dà questo posto non avevo idea mi scusi ma è ora lo sa posso avere il posto è cieco davvero sì cieco davvero te l'ho detto ma che sei sordo sì sono un fattuto sordo scusa ma non ho saputo resistere torniamo a noi chiudiamo quindi la nostra finestra di errore e facciamo questa cosa qui cioè portiamoci in basso sul pulsante start e apriamo le impostazioni facciamolo anche sull'altro computer parallelamente una volta aperte le impostazioni ci porteremo sulla sezione rete ed internet sceglieremo l'ultima voce quella che si chiama impostazioni di rete avanzate e quindi le impostazioni di condivisione avanzata a questo punto apriamo le reti private e assicuriamoci che l'individuazione rete sia attiva ed anche nel caso in cui tu voglia condividere appunto come nel nostro file e stampanti questo segno di spunta infine scendiamo sulla voce tutte le reti scendiamo fino in fondo eliminiamo la condivisione protetta da password e andiamo ad attivare la crittografia a 40 bit nel caso in cui avessimo delle macchine più vecchie potremmo inoltre scegliere di condividere le nostre cartelle pubbliche questo solamente se lo ritieni e fatte queste operazioni potremo andare a chiudere in entrambi i casi il pannello che avevamo aperto se a questo punto andremo nuovamente a fare clic con il pulsante destro del mouse per andare a sfogliare il contenuto dell'altro pc vedremo appunto la cartella users ed anche la cartella rete di prova andiamo ad aprire la cartella rete di prova anche sul computer che la ospita giusto per vedere una piccola cosa questo è il computer su cui si trova la cartella rete di prova e questo è il computer da cui stiamo accedendo a questa cartella se tuttavia sul computer di destra quindi sul client andremo a creare ad esempio una nuova cartella all'interno di questa cartella vedrai che la stessa cartella comparirà anche sul computer server allo stesso modo se all'interno della cartella appena creata andremo a creare un nuovo documento di testo aprendo la cartella sul server troveremo specularmente lo stesso documento di testo ecco un'altra mandracata sarebbe a questo punto lecita la domanda per quanto concerne l'aspetto della sicurezza come ho detto in apertura per quanto concerne le intromissioni dall'esterno questa è una rete estremamente sicura perché dispone di un tunneling crittografato per quanto riguarda invece la parte interna la rete che ti ho fatto aprire te l'ho fatta aprire nel modo più semplice togliendo alcune protezioni questo che cosa significa significa che naturalmente dovrai fidarti al 100 per cento delle persone a cui affidi le password per poter accedere a questa rete il mio consiglio è di aprirla solo ed esclusivamente su computer di tua proprietà o di persone di cui ti fidi al 100 per cento e siamo arrivati ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vedono protagonisti euge 9000 che si è appena abbonato al canale e a cui ho l'onore di dare da parte mia e di tutta quanta la community il benvenuto a bordo nel club dei gentiluomini ma due ringraziamenti specialissimi invece vanno ad andrea nastro e a sergio cogno perché ebbene perché si sono appena abbonati in qualità di distinti gentiluomini e quindi anche in questo caso mi tocca levarmi con piacere il cappello farlocco di fronte a loro benvenuti di cuore anche a voi e grazie per il vostro sostegno e il vostro preziosissimo supporto ma manca ancora un ringraziamento e lo sai già è quello che è destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia fino in fondo e quindi non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima